Proteggere il lavoro e rilanciare le piccole imprese sono le direttive della manovra finanziaria 2010 varata dal governo regionale. Un bilancio che aumenta le risorse disponibili per la comunità, riduce ulteriormente tasse e debito, alimenta una rinnovata strategia di protezione dell'occupazione, della coesione sociale e dello sviluppo dell'impresa. Per resistere e attaccare in previsione di una possibile ripresa dell'economia internazionale, sostenendo e rilanciando le nostre aziende, ha specificato il presidente Gian Mario Spacca nel corso della presentazione alla stampa. Un punto fondamentale è la diminuzione ulteriore della pressione fiscale. Noi mettiamo le imprese della nostra regione per il 99,7% dei casi nella possibilità di realizzare l'azzeramento totale dell'IRAP. Mi pare una misura straordinaria che è stata annunciata dal governo nazionale e che noi nella nostra regione abbiamo realizzato. Secondo l'assessore Pietro Marcolini, il bilancio di previsione 2010 si propone di dare completa attuazione e sbocco conclusivo alla strategia finanziaria definita dalla Giunta regionale all'inizio dell'ottava legislatura. I finanziamenti che prevede suggellano e danno senso compiuto alle linee di intervento portate avanti negli ultimi anni, che hanno permesso tra momenti di forte turbulenza economica di raggiungere risultati significativi. La manovra interesserà almeno 20.000 lavoratori, mobilitando oltre 400 milioni di finanziamenti e investimenti. Da seguito al trend costante di riduzione della pressione fiscale regionale, che da inizio legislatura ha registrato un meno 47%. E a testimonianza dell'equità sociale della manovra, ha aggiunto Spacca, il 68% dei cittadini marchigiani, le fasce sociali con i redditi più bassi, rimangono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF. È previsto infine un pacchetto organico di sostegni per le famiglie in difficoltà, per sanità, affitti e scuola. E verranno integrate le risorse dei comuni a fronte ai dettagli nazionali del Fondo Sociale.